Ciao mio caro amico aspirante, trader, professionista e profittevole Oggi è venerdì 17 gennaio 2020 e per gli scaramantici dei venerdì 17 ho delle buone notizie Bene, questo è il trade che ho fatto sul Crudoi durante la London Opening e poi c'è il trade che ho fatto sull'SPM500 durante la Piedusa Opening Partiamo dal Crudoi Questo è il market profile di Crudoi di ieri Ieri abbiamo chiuso un gap, era aperto in zona a questa area qui e quindi il mercato era rialzo C'è questo importante livello magenta Ok, durante la London, l'Asia Session, il mercato era dentro il range di ieri del Crudoi e ha rotto proprio prima dell'apertura, ha rotto proprio sopra questo livello di nuovo che combaciava anche con il massimo asiatico precedente dell'apertura Bene, in questo scenario cosa succede? Che io sono qui, che accade questo, un trappolamento di buyers pronto a entrare short e purtroppo mi è mancato quell'attimo per mettere i miei 5 pendenti ordini short e entrare a ribasso cosa che quindi occasione mi sono perso Beh, allora ti mostro la seconda occasione questo Ross Hook short a un minuto praticamente posizionano 5 ordini pendenti sell qui su questo, no, linea lime che è un nodo di bassi volumi presso dal market profile ieri del Crudoi purtroppo il mercato non mi ha eseguito perché ha continuato ad andare a rialzo e quindi la mia entry non è accaduta tutto qua quindi queste sono le due occasioni che non sono andate in porto nella mia sessione però nel frattempo ho tradato il mini Dow Jones con diversi scalp e mi sono portato 450 euro di profitto ovviamente le screenshot sul mini Dow Jones non te le posso far vedere perché si muove talmente veloce che è un problematico soprattutto al mattino bene, adesso ti mostro la situazione sul SP500 a 47 secondi di preda apertura ieri il mercato ha gappato a rialzo il rettangolo giallo evidenzia il gap ancora aperto c'è stata una distribuzione qui e poi durante la serata italiana o il pomeriggio americano il mercato ha rotto e ha creato una nuova distribuzione qua bene, in questo contesto la Asia Session e la London Session ha rotto rialzo in questa enorme gap up opening va bene dove tutti cercavano di comprare in realtà il mercato cosa ha fatto? il mercato ha venduto violentemente dall'apertura però io non sono andato con i sellers ma mi sono preso due occasioni buy quick scalp buying e praticamente questa da questa candela inside long al punto di mezzo come vedo può essere entrati i big smart buyers qua questa linea nera qui sottile è il punto di mezzo della sessione overnight il mercato mi esegue i miei 10 contratti perché sono entrato pesantemente perché ero sicuro di me perché ti ripeto è entrato con potere divino completamente retossificato nei mercati finanziari regolamentati il mio stop loss era sotto a tutto o sotto a questo big buy in balance quindi il più importante supporto dinamico primo target proprio sul punto di mezzo dell'apertura con 5 contratti l'ultimo 5 contratti un tick sotto l'apertura di oggi pitusa in gap up opening bene il mercato mi esegue i miei primi 5 contratti a target subito metto a brecchime più uno e poi il mercato mi stop anteriore di stop profit ma non ci interessa niente perché ci interessa il profitto e quindi sono a 700 dollari di profitto voglio chiudere la settimana qui? no caro mio siccome sono un trade professionista che guadagno in ogni mercato in ogni situazione di mercato perché trado un potere divini completamente detossificato adesso ti mostro un altro trade long veramente posiziono 5 ordini pendenti buy di nuovo sul punto di mezzo della sessione pitusa dopo che ci sono qui vedi sul punto di mezzo della sessione overnight ci sono 1987 ordini buy quindi smart buyers vogliamo portare il mercato ancora a rialzo bene il mercato mi esegue il mio stop loss strutturale è sotto a tutto sotto il minimo dell'apertura in gap up ti ricordo il mio target 5 contratti finali è un tick sotto l'apertura pitusa di oggi e poi metto 3 target qua intermedi in questa distanza bene il mercato stampo qui il market profile mi ha dato l'indicazione che i miei volumi sarebbero stati a rialzo ma te non puoi capire perché è un 3d perdente che non vuoi ancora lavorare con me perché vuoi continuare a perdere ma su quei 100 che guarderanno questo video so che c'è un vincente e quel vincente mi contatterà a lavorare con me e questa è la buona notizia il market profile mi ha continuato a rimanere nella mia posizione senza uscire perché poi come vedi alla successiva apertura della candela a 5 minuti ci sono smart buyers che hanno comprato qui sotto i due tick al punto di mezzo della sessione overnight assieme a precedenti big buyers qui e il mercato è pronto ad andare a prendere il mio target come vedi questo è full 30 minuti questa è una probe a intrappolare tutti gli shortlisti e poi il mercato mi va diretto a target all'apertura della seconda candela a 30 minuti della sessione di oggi il mercato mi va a target con i primi 3 contratti mi porto subito gli altri 2 a brecchire più uno e poi il mercato mi va a target anche con gli ultimi e that's it non so cosa per farti vedere per farti capire che tra l'altro ho davvero un potere divino e sono un trade vincente sempre in ogni mercato in ogni condizione di mercato e caro amico se davvero vuoi cambiare la tua storia è meglio per questo 2020 nel trading future stock e option bene contattami adesso al link sotto a questo video io chiudo la mia sessione di venerdì 17 per gli scaramanti sono 1.287 dollari in profitto e caro amico ti ripeto se davvero vuoi cambiare la tua vita è meglio contattami adesso parleremo presto assieme se davvero sei motivato a essere un trade professionista è profittevole ciao dal mighty buon weekend ci vediamo lunedì ah no forse domani è sabato o domenica ci sarà uno special video ciao a domani domani a domenica o a lunedì ciao buon weekend